Dopo Aurora e Gianmarco pare definitivamente al capolinea anche la relazione tra Mauro e Isabella. I due si erano conosciuti e innamorati al turnover di uomini e donne, ma Mauro una volta giunti sull'isola delle tentazioni si è lasciato ammaliare dalla bella Marta, scatenando sui social un polverone molto acceso per alcune immagini difficilmente equivocabili che li vedevano decisamente intimi sotto le coperte. Isabella sta soffrendo terribilmente ma cerca di non perdere la dignità e ciò le fa estremamente onore. Su Facebook infatti moltissimi sono i messaggi d'affetto nei confronti della corteggiatrice, spalleggiata anche dalla sua ex collega Elisabetta Fantini, la quale sul suo profilo ha scritto, dopo ogni tempesta arriva sempre il sereno, ogni esperienza vissuta ci lascia un segno, ogni sofferenza una cicatrice, eppure una cosa rimane, il noi essere speciali. Mauro e Marta intanto continuano a frequentarsi al di fuori di Temptation Island e la prova è da ricercarsi su Instagram. Sul suo profilo infatti Mauro ha scritto in Word quello che ormai è il suo mantra, ovvero «Ma io come ragazzo ti piaccio?» e lei dopo qualche minuto ha risposto «Sì». Grazie a tutti.